Il profumo del caffè la mattina è da sempre uno dei miei preferiti e mi piace iniziare la giornata con una bella tazza di caffè caldo Preferisco farlo con la mocha e se seguirete i miei consigli il successo è assicurato Potete utilizzare l'acqua del rubinetto Poi inserite la polvere di caffè, un cucchiaino per ogni tazzina Anziché premere la polvere è meglio sbattere il contenitore sul tavolo per livellarla bene Mettete la mocha sul fuoco e accendete la fiamma, mantenetela molto bassa così il caffè salirà lentamente Poi spegnete la fiamma appena il caffè è salito in modo da evitare che prenda un gusto di bruciato Ovviamente per farlo bene, oltre alla giusta tecnica ci vuole anche una miscela di arabica di eccellenza E questa ha un gusto particolarmente rotondo ed aromatico Prima di servirlo bisogna mescolarlo un pochino Mi mancano solo gli smoothies Adoro questi frullati di frutta fresca Oggi si trovano in commercio anche già pronti Ma farli in casa è un ottimo modo per utilizzare la frutta che diventa un po' troppo matura Si scarta magari qualche pezzo che non va bene E si frulla tutto nel blender Oggi ho a disposizione albicocche Potete metterci dentro praticamente quello che volete Ma la base è normalmente fatta con un po' di latte, un po' di yogurt Magari del miele oppure dello zucchero anche di canna E poi la frutta che preferite Sono molto buoni, molto cremosi E mi piacciono anche perché ho un modo intelligente per far mangiare la frutta ai bambini Un goccio di miele E poi direi anche un cucchiaino di zucchero di canna Ma appena appena Aggiungo il latte e non mi resta che frullare Lo smoothie normalmente è un pochettino denso Ma se volete servirlo con la cannuccia come faccio io Vi consiglio di tenerlo un pochettino più fluido Una cannuccia per uno E sono pronta per portarli fuori Xaba, per preparare gli smoothies di frutta estiva Ha usato 5 albicocche 100 millilitri di latte Di yogurt intero Un cucchiaio di miele Un cucchiaino di zucchero di canna